Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa lezione. Questa è la quarta settimana di lezione per le classi seconde e questa lezione che guardiamo oggi è quella sui comparativi di maggioranza uguaglianza e abbiamo aggiunto finalmente minoranza così abbiamo iniziato a chiuderle voi mi direte prof ma cavolo ci abbiamo messo tre lezioni tre settimane intere per fare i comparativi molte volte li facciamo in poco tempo e invece io volevo proprio visto che sono credo che siano molto importanti per poter fare le prime frasi in inglese specie per le classi seconde io credo che sia fondamentale soffermarci un attimo su come su come sono fatti questi sono i comparativi di maggioranza uguaglianza e abbiamo aggiunto minoranza ogni settimana noi quindi rivediamo brevemente quello che abbiamo fatto la settimana precedente e poi andiamo a vedere e aggiungere della carne al fuoco perché abbiamo ancora qualcosina da dire poi dopo vi giuro ho smesso di rompervi le scatole con i comparativi va bene però vorrei la vostra parola che voi me li faceste bene al meglio possibile quindi ogni lezione di queste di questo di questo canale cercate di guardarvela bene sia per le prime classi come ripasso seconde e poi perché no guardate anche le terze classi ricordatevi di iscrivervi al canale perché vi può dare la possibilità di essere aggiornati in tempo reale per chi non lo sapesse su quando escono le lezioni quindi verrete avvertiti in qualche modo dal dal come si da youtube ecco molto importante questa settimana è la quarta settimana da quando abbiamo cominciato questo questo percorso questa avventura queste video lezioni che hanno di particolarità il fatto che non vi rompono le scatole in determinati momenti del giorno all'ora prefissata è vero vi viene in aiuto il fatto che non vengo a disturbarvi a mezzogiorno all'una alle due mentre magari state facendo qualcosa in questo momento di quarantena mentre state studiando altro però la cosa positiva e che io vi suggerisco di fare è di guardarvele visto che sono disponibili sempre dalla mattina alla sera tardi quindi guardatevela adesso ve la riguardate dopo c'è qualcosa che non vi torna qualcosa che volete rivedere ve la riguardate senza problemi perché tanto sono sempre disponibili online quindi why are we here perché siamo qua siamo qua perché sapete benissimo tutti che cosa sta succedendo quindi quindi questo virus che ci costringe a casa una quarantena posso parlare molto chiaramente con voi che siete già un pochino grandicelli questa è la week for la quarta settimana da quando abbiamo cominciato ne abbiamo cominciato il giorno dopo l'arrivo di questa bruttissima bruttissima epidemia questa questa pandemia ormai si dice che che ci ha cambiato totalmente le nostre abitudini ma la scuola deve andare avanti noi dobbiamo continuare a darvi lezioni che perché è molto molto importante la cultura chiaro viene prima di tutto viene la salute la vostra il vostro benessere ma la cultura ragazze fondamentale e allora perché non utilizzare queste settimane dove siamo un po costretti a casa per studiare un po l'inglese tante scuole sono con noi quindi la lezione che faccio non è soltanto rivolta alle mie classi seconde e non è soltanto rivolta a tutti gli amici o tutte le persone che invece vogliono studiare o ripassare l'inglese o magari non hanno mai avuto tempo di farlo quindi vogliono dire ehi vorrei imparare anch'io questa lezione è rivolta proprio a tutti è rivolta anche ad altre scuole io sono in contatto con tanti vostri insegnanti d'inglese che probabilmente vi hanno girato questo link e quindi potete guardarla riguardarla tutte le volte che volete perché il nostro programma è il programma ministeriale che un po abbiamo più o meno tutti a grande linea e siamo più o meno allo stesso punto quindi la nostra programmazione didattica è come o similare a quella dei vostri docenti quindi guardate bene studiate poi loro vi daranno in caso dei compiti io non non mi permetterei non oso ma comunque vediamo di andare avanti oggi quindi terza e giuro ultima lezione sui comparativi andiamo a vedere brevemente tutti i comparativi l'abbiamo detto già altre due volte servono per paragonare persone cose o luoghi persone cose o luoghi e abbiamo comparativo di maggioranza che io ho riassunto in più di altro comparativo d'uguaglianza uguale all'altro e comparativo di minoranza meno di altro ora comparativo di maggioranza rivediamolo velocissimo giuro è l'ultima volta ok aggettivi monosillabi monosillabi quindi monosillabici brevi aggettivo si aggiunge e r r più then più il resto della frase aggettivi due o tre sillabe quindi lunghi mettiamo mor più l'aggettivo più ben più resto della frase questo ve lo ricordatevi ho fatto una testa così quindi più di altro vediamo e mouse is more than an elephant is more intelligent than me lui è molto più lui è più intelligente di me un topo è più piccolo di un elefante smaller than more intelligent andiamo a vedere adesso però una cosa che non abbiamo visto faccina terrorizzata delle emoticon come potete facilmente vedere in alto a destra ve l'ho messa perché quando c'è qualcosa di nuovo che può dare un po fastidio all'inizio ci si prepara psicologicamente allora alcuni aggettivi al comparativo e al superlativo sono irregolari ora non vi sto dicendo di studiare anche il superlativo visto che non sono queste le lezioni però ve lo metto lì se qualcuno vuole ricordarselo gli farà bene per per il futuro adesso stiamo facendo i comparativi che significa qualcosa più di altro qualcosa uguale ad altro qualcosa minore di altro ok il superlativo significa il migliore il top il non plus ultra il più figo il più intelligente il più bello più cattivo il più buono più alto di tutti quindi superlativo è perché super no ma adesso non è questo il momento però vi chiedo quindi di controllare di guardare bene di studiare bene 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 questi che vi sto per dire perché sono gli aggettivi irregolari ok con tutti gli altri aggettivi non avete problemi quindi se sono piccini mettete er se sono grandi mettete mor e l'aggettivo che avete scelto ma questi sono diverse questi sono speciali quindi god che significa buono il comparativo di maggioranza suo il comparativo è betta ok bad il comparativo è uos letto è less come l'esso letto less match e mo e poi fa peggio che andare di notte fada o fada ok quindi non father come padre fada ok chi is better than me gli esempi lui è meglio di me è vero oppure mai english is worse than yours anche questo probabilmente vero il mio inglese è peggio del tuo quindi mai english is worse than yours vedete io non ho messo is better non ho messo bad più er bestemmia no mai per carità ho messo wars perché ho messo il comparativo di maggioranza di bad uno dei pochi diversi questi ragazzi per i dovete studiare a memoria a memoria chi is better non ho messo is gooder lo dio l'ho visto alcuni 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 miei alunni lo fanno spesso però chi is better than me è la frase giusta da usare betta significa meglio quindi is better than me lui è meglio di me attenzione quindi abbiamo detto ok è molto importante che sappiate i comparativi di maggioranza rivediamoli questi qua quindi più r per quelli brevi more per quelli lunghi ma questi dovete saperli così abbiamo chiuso per sempre giuro i comparativi di maggioranza va bene e comparativi di uguaglianza e disuguaglianza rivediamoli erano quelli dove tu vuoi dire che qualcosa uguale a qualcos'altro no uguale all'altro chi is as tall as me he isn't as tall as me lui è alto quanto me lui non è alto quanto me ok questo questo è uguaglianza e disuguaglianza giustamente idem she is as intelligent ah cavolo ragazzi qua c'è un errore attenzione dimenticate quel ben perché è un errore di battitura nel nel testo ghi she is as intelligent as me lei è intelligente quanto me e lei non è intelligente quanto me she isn't as intelligent as me as me ragazzi questo no errore questo l'ho fatto io dimenticato lo mettete as ok as no then as no then questo non mettetelo ok scusate poi as not as quindi aggettivo più as più resto della frase comparativi di uguaglianza e disuguaglianza ok cosa ci manca ci manca il comparativo di minoranza ok per tutti gli aggettivi e poi giuro i comparativi sono finiti per tutti gli aggettivi dovete mettere less che significa meno di l'aggettivo più than più presto della frase less più aggettivo più than più resto della frase less più aggettivo più than più resto della frase ok quindi meno di altro so come si dice più di altro so come si dice uguale all'altro adesso so anche come si dice meno di altro quindi english esempio english is less difficult than history l'inglese è meno difficile della storia può essere non sempre quindi english is less difficult than history eppure in inglese attenzione ve l'ho segnato grosso e c'è la faccettina super intelligente attenta eppure in inglese si preferisce usare la forma negativa del comparativo di uguaglianza gli inglesi preferiscono così io questo ve l'ho messo però gli inglesi non dicono italy is less cold than in land no gli inglesi non dicono l'italia è less cold meno fredda dell'inghilterra no dicono italy isn't as cold as england italy isn't as cold avete capito quindi gli inglesi preferiscono utilizzare la forma negativa del comparativo di uguaglianza che voi avete visto qua ok preferiscono usare questa scusate quindi andiamo avanti e vediamo brevemente i ringraziamenti i ringraziamenti sono per voi sono per questi test libri di testo che ci hanno permesso di procedere durante l'anno tradizionale con le lezioni normali in classe ma sono anche per mostrarvi i libri di testo che utilizzo per le mie classi dei quali sono molto molto grato potete però usare specialmente chi non è non ha il suo libro di testo quindi non sto parlando degli alunni delle varie scuole degli alunni dei miei colleghi sto parlando un po anche di chi ci volesse ascoltare o chi volesse magari fare un po di pratica di inglese va bene qualsiasi grammatica è non vi dovete formalizzare prendere un determinato tipo di testo questi sono per la scuola media però voi potete utilizzare qualsiasi grammatica che vi piace che vi pare utile facendo come come volete con la vostra velocità io vi dico iscrivetevi al canale questo qui così sarete sempre aggiornato su e sarete sempre aggiornati sui nuovi video che arrivano di settimana in settimana e vi auguro soprattutto una settimana una futura settimana serena tranquilla let's fight together combattiamo insieme significa che non ci dobbiamo assolutamente abbattere e perché no facciamo un po di pratica d'inglese che male non fa d'accordo vi saluto vi ringrazio tutti e ci vediamo la settimana prossima su questo stesso canale ciao ragazzi